Ha una lunga esperienza nell'arma su e giù per l'Italia ed è stato anche comandante dei corazzieri al servizio del presidente Giorgio Napolitano e durante l'insediamento di Sergio Mattarella, il tenente colonnello Alberto Cicognani, nuovo comandante dei carabinieri del Verbano Cusiossola. 43 anni, il tenente colonnello ha la sua prima esperienza come comandante provinciale. Ha diretto per diversi anni i reparti territoriali da Vimercate alla Sicilia. Arriva a Verbagna da Olbia dove ha messo a segno l'importante operazione che aveva portato nel 2018 all'arresto del Diabolic della Costa Smeralda smantellando un'organizzazione specializzata in furti in villa. Prende il posto del tenente colonnello Fabio Bellitto. Alla presentazione del nuovo comandante provinciale, oltre al comandante della compagnia, il maggiore Giuseppe Talamo, c'era anche il nuovo comandante della stazione di Verbagna, il maresciallo maggiore Claudio Mola, entrato in servizio proprio oggi.